qui per chiudere il cerchio sulle postazioni dell'artiglieria campali sul monte Antenegolo c'è questa postazione, questa postazione era quella che praticamente doveva puntare perché bisogna pensare che qua Antenegolo è presentato prima della grande guerra e prima della ritirata degli austriaci questa direttrice era basata dall'alpo di Spessa, Zingla, Cicolo Rosso, Tombea doveva colpire quella direttrice lì fu quando gli austrici si ritirarono questa piazzola anche nel 18 quando le altre furono rimesse in funzione per paura di un attacco delle giudicarie qui vi fu sempre una baracca per attrezzi e per il personale